Opere affascinanti in una cornice insolita. È stata inaugurata The Artists Library, esposizione personale di Patrizio Marigliano allestita a Palazzo Nexus, situato al civico 44 di Corso Vittorio Emanuele II a Cremona. La proposta culturale nasce da una collaborazione fra Nexus STP e l'associazione CRART Cremona Arte e Turismo, che intendono far diventare gli ambienti di passaggio, quali cortile e scalone, spazi di incontri ed arte. Patrizio Marigliano ha sviluppato la passione per l'arte da bambino, poi, pur seguendo una carriera professionale in ambito bancario, ha continuato a coltivarla fino a dedicarsi da 2006 alla trasformazione dei libri in installazioni artistiche, opere che espone da tre anni in diverse città italiane. L'idea nasce dall'amore per il libro, quale narratore di una storia e soprattutto oggetto fatto di pagine rilegate in un volume da tenere fra le mani, che Marigliano spera non venga mai soppiantato dal digitale. La sensazione tattile che dà la carta, il rumore dalla carta e il profumo della carta, il libro da riporre nella propria libreria e poi da riprendere magari a distanza di anni. Insomma, ecco, c'è la volontà di dirigere una sorta di monumento al libro, prima ancora che un'espressione di amore per la lettura. L'altra ragione che ha spinto l'artista a scegliere questo elemento è la lavorazione. A differenza di materiali duttili, quali il marmo o la creta, la carta è viva, dunque ogni volta che si manipola si ottiene un risultato diverso. Effetti e apparenze metalliche, in altri casi l'aspetto che voglio dare, quello ceramico, in altri ancora l'igno, le tecniche sono diverse. I materiali sono i più disparati, dalle colle viniliche alle vernici acriliche, alle vernici industriali, alle resine. In qualche caso utilizzo materiali che solitamente sono destinati al legno, ma la carta lì proviene. Marigliano utilizza per lo più volumi destinati al macero e li rielabora, lasciandosi ispirare da un tema, ora alla Divina Commedia, ora al mare, ora all'ascensione. Talvolta le opere vengono incastonate in nicchie e così idealmente impreziosite e protette. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, presso Palazzo Nexus, dove resterà allestita fino al 30 giugno.